questa sera ho trovato questa stupenda falena guardate le dimensioni è molto grande che cos'è questa bellezza questo è un maschio di agris convolvoli o sfinge del convolvolo si tratta di una falena della famiglia delle sfingi che ha la caratteristica di essere una potente migratrice infatti può attraversare il mare mediterraneo e arrivare fino all'africa mentre al contrario può spingersi anche fino al nord euro questi animali sono caratterizzati da una spiritromba cioè l'apparato boccale lunghissima e questo permette loro di nutrirsi volando come dei colibri davanti ai fiori e inserendo appunto la loro spiritromba fino in fondo anche alle corolle più allungate le larve dei grandi brucchi verdi e marroni a strisce dotati di un corno l'ultimo segmento corporeo si nutrono a spese del convolvolo pianta infestante